Ciao ragazzuoli, oggi vi propongo un video particolare, però vi dico che a 6.000 mi piace in questo video qui lo rifaremo una volta a settimana con tutti gli str, con tutte le facecam negli angolini giusti quindi secondo me era abbastanza una figata il video di ieri sta andando molto bene, siamo vicini ai 15.000 like, con calma secondo me ci possiamo arrivare 6.000 like in questo video qua e lo faremo vi ricordo ragazzi che domani alle ore 14 inizierà la maratona su Twitch ragazzuoli domani alle ore 14 sarà il torneo con in palio 480.000 euro per il primo che vince in totale sono 10.000.000 di dollari in palio domani alle ore 14 precisi su Twitch perché ragazzi saranno 6 ore di torneo sarà una roba fighissima vi invito a iscrivervi al canale con il testo qui sotto e vi ricordo di inserire nello shop di Fortnite il codice creatore Piazza Provini perché ha 10.000 supporter e basta che lo insediate non serve fare nient'altro, appunto ne estrarremo uno che vincerà un PC in collaborazione con PC Hunter che è il mio sponsor tecnico il PC in questione è il PC STR V1 che è un ottimo PC poi gratis, è tutto buono buona visione ragazzuoli, 6.000 like, dai boys ragazzi mancano 9 ore alla fine del contest su Instant Gaming quindi fate velocissimi vi lascio il link in descrizione, voi ci cliccate e andrete su questa pagina una volta che siete qui potete iscrivere il gioco che volete vincere che può essere non so un bundle di Fortnite ti vi dico sempre lo stesso, con 2.000 V-Bucks in paradotto potete riscattarli anche su PC su quello che volete, oppure non so Minecraft o GTA insomma, GTA, mettiamo un gioco a caso cliccate su Let's Go e poi vi registrate o con Facebook o con Google Plus o vi registrate manualmente inserite i vostri dati e fate appunto qui partecipo, presentare e siete dentro al contest ragazzuoli velocissimi perché mancano 9 ore quindi questa sera a mezzanotte più o meno uscirà scritto qua il nome del vincitore semplicissimo, link in descrizione e nel primo commento cliccate i velocissimi che manca poco ok ragazzuoli partiamo allora io ovviamente il video non l'ho visto perché sennò non ha senso voglio vedere cosa fanno non so se voi li conoscete loro due sono degli streamer molto famosi oh oh holy you're a psycho what? vabbè Jarvis, vabbè mi aspetto grandi cose nooo I'm insane no way no way Jarvis che cazzo dici vabbè minchia, vabbè è il lupo che fa vabbè dai ci sta niente di super nooo ma quello di Jarvis di prima no way IQ IQ ci sta vabbè si fa si fa si fa anche adesso in realtà oddio l'arco non ci avrei mai pensato vabbè effettivamente io sono un babbo vabbè questo si fa tantissimo ok boogie doppia boogie nooo vabbè prende danno dalla stink così si toglie la boogie e può hittare prima prendendo solamente 5 vabbè qui ha sculato già dai nel senso buono no way no way è geniale sta cosa si vabbè chi sei Gesù Cristo bella giocata ci sta no niente di che le mie reazioni saranno totalmente sincere eh se alcune clip non sono niente di che non farò nessuna reazione strana ve lo dico subito easy bravo bravo questi ragazzi si controlla la piazza oh mio figlio spaccherà tutto eh ma sono clip normali cioè io non sono il tipo che fa oh mio addio se non serve in quella di prima si santo dio che giocate di cristo si ho uno eh vabbè questo è il cue questo è il cue puntana è sempre più bella la la key in sé che non l'idea che c'era dietro ma come cazzo ha fatto no way vabbè la trappola ma fa danno vabbè che mi sono dimenticato di come sono le le ball per fortuna ha feicato il rift vabbè questo si fa si fa easy no questo è il cue questo è bello questo è bello questo è bellissimo ma nessuno si sta accorgendo che c'è uno coi razzi eh ma che cazzo vabbè vabbè con chi sta giocando con chi sta giocando l'idea è bella ma una key non quattro la gente dorme gli ha editato la scala poco prima questo è figo anche no way ma no vabbè ma fai schifo nel senso buono ovviamente dai ci sta la cosa normale si è bella kill bella kill ci sta ma quante cazzo di kill fanno così ma che cazzo sto gioco è rotto sto gioco è rotto no ah ok l'ha stickato vabbè vabbè stava quasi ma quanto cazzo è veloce ma anche nelle clip di prima lui è velocissimo ha usato la palla come cosa oh my god no scopo ok io adesso qui io guardo ma sì no no way no way no way no way no way questa è la miglior giocata dell'anno no vabbè era zero ma che quanto cazzo è un genio regà cioè fare una roba così scrive però non puoi più farla perché non ci sono più i rift ma no way cioè l'ha fatto riftare così che prendesse hit e quello intanto stava sotto sei un cazzo sei un cazzo di genio io non dico nient'altro porco di gg per la mira più che per la giocata qua l'ha proprio distrutto l'ha proprio distrutto qua c'era solo un botto con i board comunque ho visto tantissimi oh hey spero che potremmo trovare booo no way lupo tu è gem side devi vire che pro bello io sono 10 sono morto nooo oh 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 questo qua si fa si fa per tenere vivo il teammate si mette in palo questo è pog per tenere vivo questo che si fa si fa no 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 vabbè ma che sei serio questi due sono assurdi raga fanno dei flick che non hanno senso i tuoi cazzo sono forti mamma mia vabbè Montana Black non è un pro player è un content creator farà la kill es è aufgegangen è aufgegangen sono cazzo il tedesco 3 2 1 go questi ragazzi sono così nooo wii vabbè che culo vabbè qua ha sculato punto non c'è altra cosa che tenga cazzo oh my god there he is this is perfect chap this is for you buddy oh my god that was my asses on wet dude everyone say hello to reddit hey bud oh bello team there he is he's aiming a pump shotgun and I'm gonna drop and put a wall in front of him this is gonna be like very strategic drop put a wall he shoots I shoot guardalo cypher come spiega le basi ma sei un bastardo razio ma che cazzo di yaaah rap 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 voleva ce l'ha fatto ce l'ha fatto easy bravo figata team lo amo team lo amo solo per le reaction team lo amo solo per le reaction è bellissimo jump al volo bravo mamma mia ray si perchè prima dovevi cliccare due tasti per metterlo non era come ora dovevi mettere base e jump non devi solo mettere jump quindi era molto più difficile bel madonna wow ha fatto in due secondi ha fatto in due secondi vabbè minchia fai tranquillo bro vabbè c'ha lane bot questo non lo vuole dire vabbè 7 kill start vedi tu se ti sembra normale ma la gente ancora ma vabbè che le clip sono di 4-5 mesi fa alcune alcune sono di settimana scorsa alcune sono non lo vuole dire minchia ha fatto uscire mezzalope vabbè 300 IQ no vabbè l'ha spaccato l'ho spaccato no way come cazzo timing vabbè 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 dai vabbè vabbè mamma mia